Ciao a tutti e benvenuti nella nostra rubrica di cucina. Io sono Lorena, educatrice della Siconito Zucchero Pilato di Alanni e oggi vi propongo il ragù di verdure per condire la pasta di grandi e piccini. Allora, abbiamo bisogno di olio, pomodoro, cipolla, carota, zucchine e zucca. Allora, andremo a tagliare a dadini le nostre verdure. Così. La carota. Poi mettiamo l'olio nella peccola. La cipolla. Accendiamo il fuoco. Facciamo dorare qualche minuto e aggiungiamo le nostre verdure. Le facciamo saltare un pochino in padella con la cipolla. Aggiungiamo il pomodoro. Un po' di acqua. E lasciamo cuocere per un'ora il nostro ragù. Una volta cotto, possiamo frullare tutte le verdure e condire la nostra pasta. Grazie a tutti e alla prossima ricerca! Grazie a tutti! Grazie a tutti.